Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI segnalate code l'uscita alla Strassigna in entrambe le direzioni per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Per intervento di ripristino frana chiusura dell'uscita verso via Quaglierini in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. La statale 64 Porrettana è chiusa tra Pavana e Ponte della Venturina a causa di una frana. Sulla regionale Due Cassi a senso unico è alternato il restringimento di carreggiata per lavori all'altezza del chilometro 268 nel comune di Barberino Tavarnelle. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!